Entra negli uffici dell'autorità portuale e armato di pistola minaccia il presidente Hercules Aralambides e il segretario generale ammiraglio Salvatore Giuffre. Paura e tensione questa mattina a Brindisi. Pasquale Giurgola, un operatore marittimo, si è presentato alla segretaria armato di pistola e sotto minaccia le ha chiesto di incontrare il presidente. L'imprenditore Brindisino, esasperato da tempo per i suoi rapporti con l'autority, già da alcuni giorni manifestava un forte disagio in seguito alla revoca alla sua azienda, la BIS SRL, delle attività di imbarco e sbarco trailer da parte dell'armatore Grimaldi. Oggi la situazione è degenerata e l'uomo è stato colto da un raptus di follia. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno circondato la ex stazione marittima bloccando il lungomare e corso Garibaldi. Poi la fine dell'emergenza, fortunatamente senza tragedie, e la consegna delle armi al vicequestore Salvatore De Paulis, dirigente della polizia di frontiera, e ai suoi uomini. L'imprenditore Brindisino, dopo aver consegnato la pistola, ha avuto un malore ed è stato necessario il trasferimento in ospedale con un'ambulanza del 118. Una tragedia sfiorata, un episodio, quello di oggi, che rende bene l'idea di quale sia la situazione nel porto di Brindisi per le imprese locali.